Un viaggio che è stato portare la benedizione di Cristo e della Chiesa sul desiderio di vita e di pace che trabocca dal cuore della Colombia, visto negli occhi delle migliaia di bambini, ragazzi e giovani incontrati dappertutto. Così Papa Francesco ha raccontato il pellegrinaggio appena concluso nel paese latinoamericano agli oltre 30.000 fedeli presenti in piazza San Pietro per l'udienza generale e ha ringraziato per la gioiosa accoglienza il popolo colombiano che ha ma che vive con speranza e con orgoglio alzava i figli perché Francesco li benedicesse dalla Papa Mobile. Un popolo così a futuro, ha commentato il Papa e ha sottolineato di aver voluto con il suo viaggio benedire lo sforzo che i colombiani stanno facendo per uscire da mezzo secolo di conflitto interno che ha seminato sofferenze e nemicizie procurando tante ferite difficili da rimarginare ma con l'aiuto di Dio, ha aggiunto, il cammino è ormai avviato. La Colombia, come la maggior parte dei paesi latinoamericani, è un paese in cui sono fortissime le radici cristiane e se questo fatto rende ancora più acuto il dolore per la tragedia della guerra che l'ha lacerato, al tempo stesso costituisce la garanzia della pace, il saldo fondamento della sua ricostruzione, la linfa della sua invincibile speranza. È evidente che il maligno ha voluto dividere il popolo per distruggere l'opera di Dio, ma è altrettanto evidente che l'amore di Cristo, la sua infinita misericordia, è più forte del peccato e della morte. Facciamo il primo passo, ha concluso il Papa citando il motto del viaggio in Colombia. Non è un invito che vale solo per il processo di riconciliazione, ma anche per avvicinarsi, chinarsi, toccare la carne del fratello ferito e abbandonato, come ha chiesto nell'ultima giornata a Cartagena. E nei saluti ai pellegrini italiani il Pontefice ha espresso la sua vicinanza spirituale a chi soffre a Livorno a causa dell'alluvione. E nei saluti ai pellegrini italiani il Pontefice ha espresso la sua vicinanza spirituale a chi, a Livorno, soffre a causa dell'alluvione. Grazie a tutti.